Un saluto a tutti i videoascoltatori d'Italia Medievale, oggi presentiamo un bel saggio pubblicato da Occo Etes dal titolo Nell'immaginario dantesco, a cura di Caterina Sofia Mastelli Allegrini e Antonio Catalano, che abbiamo il grande piacere di avere i nostri graditi ospiti e i quali io lascio la parola nell'ordine che si sono dati. Quindi prego a voi. Bene, buongiorno a tutti intanto e grazie mille per l'invito che ci consente l'opportunità, ci dà l'opportunità di parlare di questo volume che è stato appena pubblicato, è stato pubblicato a luglio di quest'anno, quindi del 2024, però ha una storia lunga perché in realtà è il volume che contiene i saggi delle varie relazioni che ci sono state in un convegno che si chiamava nello stesso modo nell'immaginario dantesco e che si è tenuto all'Università Vita Salute San Raffaele a Palazzo Aresevorromeo nel novembre del 2021. Nel novembre del 2021, questo è importante dirlo, perché? Perché l'Università di Filosofia del San Raffaele aveva deciso, con il gruppo di ricerca di Aporein in Metafisica e Filosofia delle Arti, di organizzare un convegno nell'anno dell'anniversario dei 700 anni dalla morte di Dante. Il titolo, in qualche modo, perché poi siamo un'Università di Filosofia, era un po' per comprendere e per unire letteratura di Filosofia e quindi nell'immaginario dantesco era proprio basato su questo, cioè come il mondo delle immagini, di suoni e di forme che Dante ha nella sua vita e che riporta nelle sue opere, venga poi trasmesso nell'opera principale che è appunto la Divina Commedia. I saggi sono quelli, praticamente sono le relazioni che i diversi professori hanno tenuto nel convegno, che appunto c'è stato a novembre del 2021, quindi il volume è un po' gli atti del convegno, racchiude gli atti del convegno. Ci sono, secondo me la particolarità del volume e la peculiarità appunto del volume è che ci sono saggi totalmente diversi l'uno tra l'altro, cambia anche il modo di sviluppare perché a volte gli autori sono filosofi, altre volte sono storici della letteratura e quindi questo proprio dà l'idea di quanto il mondo delle immagini, il mondo dei suoni, il mondo delle forme di Dante sia presente nei diversi aspetti e nelle diverse discipline. Il volume inizia con il saggio di Heather Webb che quando aveva partecipato era una professoressa dell'Università di Cambridge, mentre adesso insegna a Yale e si basa il suo saggio su tutto quello che è la gestualità nella Divina Commedia, quelli che sono i gesti, come i gesti trasmettono alcune cose rispetto ad altre e quindi è molto interessante proprio perché fa degli esempi poi molto concreti che si trovano nella Divina Commedia ed è interessante vedere come appunto queste immagini sono anche immagini visive e riportano anche dei gesti. Si continua poi con il saggio di Francesco Vallagussa che è il direttore del centro di ricerca in Metafisica e Filosofia delle Arti di Aporein dove io e Antonio entrambi collaboriamo e lavoriamo e il professor Vallagussa cerca di rielaborare e sviluppare il pensiero di Dante attraverso la lettura di Simmel. Quindi è un altro saggio molto interessante che ci dà una nuova prospettiva su quello che è Dante e su come è l'analisi di Simmel. Si continua poi con il saggio di Irene Zavattero che insegna filosofia medievale all'Università di Trento e in questo caso quello che la professoressa Zavattero ha deciso di mettere in luce è appunto l'immagine della donna gentile e quindi anche qui c'è un'altra rielaborazione di Dante e un'altra appunto un'altra immagine un'altra forma che viene fuori e quindi come si vede tutte queste immagini ritornano ed è per questo che poi il volume appunto si intitola l'immaginario dantesco. Si continua poi con il saggio di Pinchard che dirige in realtà la società dantesca in Francia e quello che lui appunto cerca di fare perché è quello che ha fatto nei suoi anni di lavoro è cercare di capire come il pensiero francese ha rielaborato Dante che è il nostro più grande classico quindi il più grande classico italiano. Successivamente vi è il saggio di Giulio Ferroni. Giulio Ferroni credo che non abbia bisogno di presentazioni soprattutto nell'ambito della storia della letteratura e anche qui l'invito ad esempio al professor Ferroni era stato fatto dopo che lui aveva appena pubblicato il libro L'Italia di Dante in cui appunto rimette in luce tutte queste immagini e fa capire come queste immagini non sono solamente immagini che Dante ha nella sua mente ma che sono anche immagini molto concrete e molto visive e attraverso questo lui decide nel ha deciso nel convegno lo decide nel saggio di fare una rielaborazione di quello che sono le immagini dell'oltre quindi l'immagine del soprattutto dell'inferno ma anche del purgatorio del paradiso quindi il tema principale della divina commedia e poi c'è il saggio di Massimo Donà che invece è un altro professore dell'Università Vita Salute San Raffaele soprattutto di metafisica ma anche di ontologia delle arti in cui Donà con la sua più grande capacità noi lo conosciamo abbastanza bene mette insieme tutte quelle che sono le varie elaborazioni nel corso del tempo che ci sono state di Dante quindi unisce Simmel già trattato da Vallagussa ma parla anche di Auerbach cioè ci sono tutta una serie di elaborazioni che lui mette a confronto in un unico saggio. Credo che la cosa principale sia da dire io mi sono occupata nei miei studi e nei miei percorsi di classico e credo che la cosa più importante è che noi abbiamo deciso di occuparci di Dante ancora e facendolo in particolar modo con con questo volume perché è veramente il classico ci sono tanti classici che continuano a parlarci diciamo i classici per essere classici devono continuare a dirci qualcosa eh sì di noi ma del passato ma comunque darci sempre un'occasione di confronto ecco io credo che in questo ehm Dante e la Divina Commedia siano davvero il classico par excellence perché questo continuo eh rielaborare ristudiare le immagini eh è qualcosa che ci mette sempre ehm nell'ottica di dover analizzare continuamente rileggere e rielaborare quindi un po' il tentativo è stato questo e speriamo con questo volume eh di essere riusciti a dare una nuova luce certo non definitiva ma appunto per quello che dicevo perché comunque la rielaborazione di questo libro e del di tutte le opere di Dante è sempre continua e è infinita in qualche modo grazie Caterina eh grazie per la presentazione esaustiva eh io da curatore ho avuto modo di occuparmi dei tre interventi che chiudono la raccolta tre interventi che hanno un focus unitario che ruota attorno alla pubblicazione da parte di Benedetto Croce della monografia alla poesia di Dante nel 1921 quindi questo in qualche modo semplifica il mio compito di presentazione perché riesco in pochi minuti a tenere insieme con un unico breve discorso eh tutti e tre gli interventi che come detto hanno a che fare con la pubblicazione da parte di Benedetto Croce della monografia dedicata a Dante all'epoca del convegno ero un borsista presso l'istituto italiano per gli studi storici di Napoli Benedetto Croce per uno studioso di Benedetto Croce il 2021 è certamente è stato il settecentenario dalla morte di Dante ma anche il centenario della pubblicazione da parte di Croce della monografia dal titolo la poesia di Dante le celebrazioni quindi sono spesso condotte parallelamente sul doppio versante i tre interventi che chiudono la raccolta sono a firma di tre docenti di letteratura dell'università Sororsola ben in casa di Napoli e cioè Gianmattei ed Emanuele Bufacchi sono tre interventi di possiamo dire storia della cultura storia della cultura italiana ed europea no è questo l'approccio che trasversalmente taglia in tre contributi cultura però qui da intendere in senso forte cioè in un senso in cui politica letteratura filosofia arte stanno insieme sono congiunti vanno a formare una congiuntura che fa un mondo educa che forma delle generazioni questo senso di cultura è molto vicino al termine greco paideia no e lo dico non a caso perché la collega che avete appena ascoltato è infinitamente più adotta di me su questi su questi temi questi tre lavori dunque hanno come vi dicevo l'asse che lega benedetto croce a dante come nucleo che li accomuna e più ancora direi una data simbolo che il 1921 tutti i tre lavori ruotano attorno a questa data una data fondamentale per la storia italiana senza come dire timore di essere smentito no possiamo dire che c'è nella storia italiana un pre e un post 1921 perché dico questo perché le maggiori sofferenze patite dagli italiani durante il primo conflitto mondiale stavano esacerbandosi fino al punto di non ritorno stavano per deflagrare no senza ancora che si capisse bene no in che direzione facciamo degli esempi concreti a liborno viene fondato il partito comunista a milano il partito nazionale fascista esplodono numerosi tumulti nelle piazze le camicie nere si cimentano le prime vere proprie prove di forza sul campo e legittimamente qualcuno si potrà chiedere perché in questo scenario dante perché parlare di dante perché occuparsi di rievocare dante al di là delle celebrazioni di rito che anche un secolo fa vennero condotte beh c'è una risposta precisa questi contributi ci rendono lo scenario del tempo no all'interno del quale dante viene ripreso perché dante perché mai come prima d'allora nella storia italiana neanche durante l'esorgimento dante viene reclamato viene invocato divenne il simbolo delle principali ideologie che al tempo si disputano il centro del lagone politico culturale dante viene reclamato come simbolo dalla crescente propaganda nazionalista dante diviene simbolo delle ritrovate veleità universalistiche di certo cattolicesimo dante diventa l'emblema di chi già allora auspicava una sorta di società delle nazioni unite ispirate a un cosmopolitismo chiamiamolo pure cantiano c'era ovviamente c'erano il dante di dannunzio c'era già stato il dante di giovanni gentile soprattutto e rispetto a questo croce prende posizione e lo fa con intento chiaramente polemico con la vena da polemista che l'ha sempre contraddistinto con quale intento beh con l'intento di strappare il mantello ideologico che a seconda dei casi delle circostanze veniva uccita addosso a dante l'attenzione viene così da croce riportata sulle immagini di dante sulla forza delle immagini veicolate dalla parola poetica chi conosce l'estetica di croce sa benissimo quanta importanza rivesta l'immagine l'immagine non è mera anticipazione del concetto scusate questa parentesi filosofica l'immagine non è precorrimento del concetto non è preparazione del concetto non si scioglie nella completezza del concetto ma l'immagine è dotata di una propria e autonoma forza conoscitiva e dotata di un'autonoma dimensione speculativa che esplode evidentemente in capolavori come quello di dante e questo croce fa con la sua monografia e questi tre contributi di fatto riescono a farcelo vedere quando lavori come questi lavori di storia della cultura sono ben condotti non sono mai frutto prodotto di mera erudizione ma ci dicono cercano di dirci no qualcosa sempre sulla sull'attualità sulla stringente contemporaneità intendo qui davvero contemporaneità nel senso crociano in cui in teoria storia della storiografia croce diceva che ogni storia è sempre storia contemporanea lo scenario di oggi è ovviamente completamente mutato le potenze in gioco sono diverse ma guarda caso oggi come un secolo fa si torna a parlare di crisi delle democrazie liberali di crisi dei valori occidentali nonostante lo scenario sia totalmente cambiato siamo nuovamente lì le democrazie occidentali sono chiamate ancora una volta a dare prova di sé della propria tenuta della propria forza sono nuovamente chiamate a ripensare da capo la propria organizzazione interna ed ecco l'attualità di dante croce pochi come loro hanno avvertito il senso della crisi patendolo anche sulla propria pelle cercando ciascuno di reagirvi a proprio modo è ovvio che la ricetta di croce non è quella di dante e la nostra non potrà essere quella di croce tuttavia ci mostrano come con la forza della cultura si possa far fronte a una determinata crisi spirituale e così provocatoriamente mi viene da chiedere abbiamo oggi questa forza ovviamente questi contributi ci lasciano intravedere queste suggestioni perché ricostruiscono tutto il contesto in cui matura questo tipo di questo tipo di riflessione attorno a dante pochi intellettuali come croce davvero patiscono il senso della crisi delle istituzioni liberali e vi reagiscono in un doppio modo certo con strumenti anche politici croce mentre scrive la monografia su dante e cura le celebrazioni per il sesto centenario dalla morte e ministro dell'istruzione e mette in atto le sue idee pioneristiche sulla scuola sull'università sul paesaggio sulla tutela paesaggistica una delle grandi riforme sulla tutela paesaggistica del nostro paese è proprio di croce e lo fa al contempo anche con gli strumenti della cultura croce lavora a ricostruire un panteon dei nomi tutelari dello spirito europeo scrive nell'arco di pochi anni una monografia su dante una su ariost una su shakespeare una su goethe come a lanciare un monito all'europa vada a non smarrire la tua tradizione vada a non smarrire il senso di quella libertà che con tanta fatica è conquistato e che devi ogni volta riconquistare e come dire questi tre contributi per quanto siano diversi noi approcciano la questione ciascuno dalla propria prospettiva ci pongono poi in fondo questo interrogativo che è un interrogativo drammatico al suo modo croce ci mostra come trattando di dante non sta facendo mai l'erudizione rievocando un grande autore medievale non sta facendo storiografia erudita ma sta cercando di come dire avere una presa diretta e sui governi del tempo e sulla politica del tempo e sull'opinione pubblica del tempo e come dire un po lavoro in bocca che resta è quello che dicevo prima no c'è questa possibilità oggi c'è qualcuno che con gli strumenti della cultura riesce a fare quello che croce ha fatto citando dante e uno sguardo sull'attualità non ci lascia sperare ma la speranza non è virtù della filosofia quindi quindi me ne chiamo fuori molto interessante questa lettura e questi saggi quindi bisogna andare di sorsa a comprare il libro perché sicuramente ne rimarrete entusiasti quindi io come mia abitudine ricordo il titolo che è nell'immaginario dantesco octoetes editrice da pochissimo a cura di Caterina Sofia Mastella Allegrini e Antonio Catalano che abbiamo avuto il piacere di avere i nostri graditi ospiti che io ringrazio davvero tanto per questa interessante videopresentazione grazie ringrazio noi Italia Medievale ovviamente grazie mille e invece a tutti voi ricordo di continuare a seguirci sul nostro canale youtube dove trovate tutte le videopresentazioni realizzate fino ad oggi a presto grazie mille e invece a tutti i nostri gradi